Non vedo l'ora di presentarmela! Eccoci qua! Già mi immagino qui a far colazione. Oppure qui a raccontare le fiabe. Camera master con accesso alla terrazza. Ami lavorare da casa? Nessun problema. Due postazioni, tre finestre. Ma non è stupenda questa luce premunta d'arancia o di melograno? Ecco un'altra camera. Questa è una piccola cameretta che si può interpretare come si preferisce. A me piace chiamarle le camere magiche e ci sono in tutte le case. Dalla zona giorno possiamo accedere all'appartamento duplex con accesso diretto dalla casa o indipendente dalle scale. Il nostro slogan è quello di dire che le case di nucleo non sono per tutti e ci crediamo veramente. Ma questa casa è speciale, ha tantissime finestre su tutti e quattro i lati. Dunque avrai luce tutto il giorno. Eccoci qua nello spazio con entrata indipendente. E adesso ci divertiamo perché ci sono un sacco di possibilità per interpretarlo. Qui si potrebbe tranquillamente pensare a un locale musica. Signor Cheval, tutto bene? Siamo alla nostra terza seduta di psicologia. Studio per qualsiasi attività che richieda un bello spazio.